I riti della Settimana Santa ad Agropoli, escludendo il lunedì, il martedì ed il mercoledì, saranno celebrati dalle parrocchie agropolesi in modo unitario. Ad annunciarlo Don Bruno Lancuba, parroco della Chiesa Santa Maria delle Grazie, le funzioni saranno trasmesse dalla nostra emittente sul canale 636 del Digitale Terrestre e sulla nostra pagina Facebook Cilento Channel. In seguito agli accordi presi tra Conferenza Episcopale Italiana e Ministero degli Interni, le celebrazioni della Settimana Santa si terranno a porte chiuse, ma con la possibile partecipazione delle figure necessarie allo svolgimento delle stesse, ad esempio diaconi, accoliti, lettori, animatori musicali, oltre ai cineoperatori, nell'assoluto rispetto delle norme di distanza di sicurezza. Noi parroci delle comunità parrocchiali Santissimi Pietro e Paolo, Santa Maria delle Grazie e Sant'Antonio, quale segno di unità e per un migliore servizio al popolo santo di Dio, abbiamo deciso di celebrare in modo unitario i riti della Settimana Santa, fatta eccezione per il lunedì, il martedì e il mercoledì santo. Potrete seguire le celebrazioni su Cilento Channel, canale 636 del Digitale Terrestre, sulle pagine Facebook delle parrocchie e sul canale YouTube Parrocchie Agropoli. Questo è il programma della Settimana Santa, fa sapere Don Bruno Lancuba. Domenica delle Palme ore 11, Chiesa San Francesco, giovedì santo ore 20 e 30, parrocchia Santa Maria delle Grazie, venerdì santo ore 23 e 30, parrocchia Sant'Antonio, sabato santo, solenne veglia pasquale ore 23 e 30, Chiesa Madre, Santissimi Pietro e Paolo, domenica di Pasqua ore 11, parrocchia Santa Maria delle Grazie.